Sventola per il secondo anno consecutivo sul lungomare di Nova Siri la bandiera blu, importante riconoscimento assegnato dalla FE e la Fondazione per l'Educazione Ambientale, ai comuni che si distinguono per l'attuazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale, di inclusione e di tutela del paesaggio. La consegna del vestiglio alla cittadinanza è avvenuta lunedì 1 luglio nel corso di una cerimonia svoltasi nella piazza centrale del lungomare novasirese, momento di condivisione e di festa per un riconoscimento ambientale che premia la beneabilità delle acque e la gestione sostenibile del territorio. Una bandiera che appartiene a tutti i cittadini che si impegnano assieme all'amministrazione comunale per uno sviluppo compatibile con l'ambiente, come ha ricordato il sindaco di Nova Siri Eugenio Lucio Stigliano. Nova Siri si attesta in quella schiera di paesi che offrono dei servizi di un certo livello alla popolazione e ai turisti perché bandiera blu non significa solo acqua di balneazione, qualità dell'acqua di balneazione, ma anche un buon livello di altri servizi quali la raccolta differenziata, le piste ciclabili e quindi l'ecosostenibilità. Registriamo con piacere che anche in altri luoghi è stato raggiunto questo obiettivo e quindi vediamo che il sistema Tosta del Metapontino convince e vince in Basilicata e anche in ambito nazionale. Un cartellone estivo ricco di eventi per tutti i gusti con un concetto di punta che si va a inserire in un contenitore che va a soddisfare le richieste dei cittadini e dei turisti.